Il Pescara continua a giocare un altro sport rispetto a tutti quanti, è anche fortunato nel primo tempo al trentatresimo, autorete di Alphageme su Crosa che proveniva dalla destra, 1-0 per il Pescara, al quarantaduesimo fa tutto e lo fa benissimo, Insigne che segna il gol numero 17 del suo campionato, il sesto nelle ultime quattro partite, davvero un altro grande gol per Lorenzo Insigne. Nella ripresa il Pescara arrotonda il risultato, all'ottavo minuto segna Nielsen dopo un errore di Viotti, gol del 3-0, terzo in campionato per il danese, poi solito copione, entra Sansovini a partita in corso e segna al ventunesimo minuto su questo bell'assist di Cascione, il gol numero 16 in campionato, 4-0 per il Pescara. Nel finale c'è Gloria per il Grosseto, qui a Baglio di Gaglione per un contatto che non c'è tra Nani e Sforzini, dal dischetto Sforzini segna il gol dell'1-4 dopo aver sbagliato il calcio di rigore sulla ribossia.